Da giovedì 6 dicembre, anche a Benevento, un corso garipanti, Timberland Store. Benvenuti a questa edizione delle Anza. Beh, vi riviamo subito i contatti, perché molti insomma ci inviano messaggi in privato su Facebook, ma fate bene. Iscrivetevi alla pagina e cliccate mi piace su EA Entertainment Area, lì troverete tutte le info per contattarci. Ma noi ve lo diciamo anche ora, per voi facebookiani, per voi lì in tv sul divano. Insomma, chiamate a questi numeri qui, oppure inviateci una mail a quella che scorre sotto. Questa è edizione decisamente pre-festività, quindi tutto in fermento, i locali propongono il meglio, caleranno i loro assi nella manica, ma anche noi vi proporremo le Anza per la versione Capodanno 2013 per le festività e soprattutto i Notteamboli TV, il nostro format storico nel suo speciale, oramai arrivato al settimo anno, lo speciale dedicato al Capodanno. Ma ora ci vediamo 20 secondi di spot, restate con noi! Landolfi, ogni settimana, il giovedì fortunato ed il venerdì nero. Landolfi.it Dateci l'ore, al resto pensiamo noi! Da segnalare decisamente l'Open New Season per il festino, che è nei fatti e per il terzo anno consecutivo, una situazione artistico-musicale unica e di chiara identità, il Clubhouse. Questo da venerdì 7 dicembre 2012 all'Opera, in pieno centro storico, a Benevento. Spostiamoci ora nel Molisagno, dove continuano a riscuotere successo per la loro unicità di proposta il giovedì fortunato ed il venerdì nero. E Landolfi, non si risparmia, sta già preparando il suo Capodanno, che è diventato ambitissimo, e non soltanto per le sue prelibatezze culinarie e l'accoglienza, ma anche per l'atipico, ma, come dire, scicherante animazione. Ora facciamo tappa nella parte europea Nola. Perché? Perché lì c'è un appuntamento davvero... con i baffi, per citare l'amico festino. Parliamo di uno dei migliori club italiani, il Bloma Club Nola Napoli. Ospita e vede guest con la sua Etruria Beat, Mr. Luca Agnelli, venerdì 7 dicembre, Bloma Club Nola. E, tra l'altro, il Bloma Club non è solo ambito per le interminabili fidele per accedervi, ma è ambito dai migliori DJ voice con una programmazione quest'anno davvero straordinaria. In Irpini è, invece, un calendario eventi da tenere d'occhio e da non perdere gli appuntamenti che pur vuole per il locale più donna del sud Italia. Uscita a Grotta Minarda della Napoli-Bari, parliamo delle famme. È un appuntamento che riguarda l'entertainment, un cartellone molto ricco, ma soprattutto anche per il beverage e per le proposte culinarie davvero, come dire, molto le famme. Grotta Minarda, Avellino, uscita autostradale Napoli-Bari. L'Andolfi. Ogni settimana. Il giovedì fortunato. Ed il venerdì. Nero. L'Andolfi.it Dateci more. Al resto pensiamo noi. Per esorcizzare, invece, la fobia del 21 dicembre 2012, ci pensano la tribù, il popolo, ISN Maleventum. Erasmus Maya Party, questo per giovedì da appuntare, 13 dicembre, all'opera in centro storico a Benevento, un party che è la fine del mondo. Il film, invece, di questa settimana che vi proponiamo è quello con la regia, il marchio di Daniele Cipri e uno straordinario Tony Servillo. Parliamo di È stato il figlio da non perdere. Ma questa settimana vi proponiamo Alvaro Martins, che da venerdì 7 dicembre con il suo Something About You è su tutti gli store di musica digitale, ovviamente con la sua label, Beat Frequency Records. Beh, grazie di essere stati con noi. E cosa dirvi? Fate i bravi, ma fatelo, fatelo, fatelo. Peace and love. Ciao.